Fa discutere il bando della provincia dell'Aquila sulla nuova collocazione del liceo Domenico Cotugno. Interviene l'ex sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. La provincia ha pubblicato un bando per individuare un'area di 4 ettari per realizzare la nuova serie del liceo. Questa notizia mi lascia allibito, dice Cialente. Mi chiedo e vi chiedo, si legge nella nota, ma può una città decidere dove insediare una scuola superiore importante come liceo con oltre mille studenti, tantissimi insegnanti, tramite un bando pubblico all'addocoglio-coglio? Davvero si pensa che lo si possa realizzare ovunque, senza un disegno, senza un'idea di fondo delle funzioni da assegnare ai poli così importanti, all'organizzazione dell'istruzione aquilana? Il bando ricerca un'area pubblico-privata, entro un raggio di 4 km dal centro. Ma come? Sino all'insediamento dell'attuale giuntarella, al centro del dibattito, vi era la problematica politica della rivitalizzazione del centro storico e delle future funzioni. Ed ora decidiamo di portare il liceo alla periferia, si chiede ancora Cialente. Qualcuno si è posto il più stupido dei problemi, come si assicura il servizio dei trasporti, considerando che gli studenti delle superiori arrivano dall'intero comprensorio? Qualcuno si è chiesto poi se la prossimità degli studenti al cuore della città, vicino a fondamentali servizi, a luoghi di incontro, a luoghi della cultura, teatro, auditorio, biblioteca, sia un obiettivo da perseguire? La verità è che conclude che questo sindaco, la giuntarella, la maggioranza, il centrodestra e la provincia non sono capaci di governare, dove per governare si intende per un minimo sindacale la capacità di progettare a lungo termine e di disegnare il futuro. Attacca Cialente. Penso sarebbe utile che si aprisse un dibattito, forse io sbaglio, ma parliamo nel registrato purtroppo ancora una volta un assordante silenzio. Grazie a tutti.